Buonasera, in questo anno 2024 andranno al voto 4 miliardi di persone, oltre la metà della popolazione globale. Stati Uniti, Europa, Russia, Sud America, Asia, Africa, sarà il più grande anno elettorale della storia. Ma le elezioni corrispondono davvero ai sistemi democratici e bastano le elezioni a definirli. E ancora, di fronte a grandi cambiamenti globali come il clima o le migrazioni di massa, serve ancora la democrazia? Sono domande cruciali. Stasera proveremo a rispondervi. Stimato Professor Canfora, buonasera. Ha sentito le domande cruciali, forse sproporzionate ad un programma televisivo, quale che sia che ci siamo posti all'inizio in apertura. Sicuramente il tema, la democrazia, che cos'è, se funziona, fino a che punto può resistere alle spinte che arrivano, è un tema cruciale dei nostri tempi, se lei è d'accordo. Non solo dei nostri tempi, ma direi di lunga durata, se pensiamo alle origini stesse della parola e della cosa. La parola greca, che è rimasta in tutte le lingue venute dopo, compreso il turco. Nell'antica Grecia, in Atene in particolare, era un sistema politico molto semplice, l'assemblea decisionale dei cittadini di pieno diritto, che erano per una minoranza. E lì cominciano i problemi. Adesso cercheremo di esaminare. Invece in apertura, per venire, so che lei indugerebbe volentieri sul mondo greco, ma la devo trascinare verso l'attualità. Voglio farle vedere questa cartina, la quale dimostra che solo l'8% della popolazione mondiale vive in regimi che possono essere definiti, con una certa approssimazione, interamente democratici. Qua è inutile che mi metto A. I paesi verdi, chiari e scuri, sono quelli democratici. I paesi con diverse gradazioni di rosso sono quelli dove la democrazia non c'è o non funziona o è imperfetta. Ma in realtà la situazione è ancora peggiore di come la dimostra questa cartina statica, perché la situazione è in movimento e questi paesi di piena democrazia tendono a ridursi. Lei è d'accordo su questo? Certamente sì. Sembrerebbe un paradosso, perché ovviamente si tende a pensare che un sistema aperto verso la partecipazione dei cittadini dovrebbe essere anche attraente al massimo. La questione forse va apporsa in questi termini, che si è da sempre, dall'inizio, oserei dire anche da Aristotele, col suo permesso, la distinzione fondamentale è stata democrazia soltanto formale o anche sostanziale. In parole povere? In parole povere dice il filosofo maestro di color che sanno che se su 1300 cittadini 1000 sono ricchi e governano, quella è una oligarchia. E se governano i 300, che sono una minoranza numerica, quella è una democrazia. Quindi la democrazia è il governo dei non possidenti, dice il filosofo di Stagira. Ma la nostra Costituzione, all'articolo 3, dice in forme molto più raffinate la stessa cosa, quando dice che il compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli che violano la sostanziale, l'eguaglianza di fatto. E quindi già lì c'è la distinzione che ci portiamo dietro e che non è facile risolvere e che crea tutti i problemi delle varie forme di democrazia. Lei ha scritto anni fa, ma continua ad essere ristampato per la sua, devo dire, importanza, questo libro per la terza, La Democrazia, sottotitolo Storia di un'ideologia. Difatti comincia da allora, dalla sua amata Grecia, una volta portava al risvolto della giacca addirittura una decorazione della Repubblica Greca, per arrivare fino ai nostri giorni. E qual è la sconsolata conclusione alla quale lei arriva? Questo mi ha. Lei arriva alla conclusione che la democrazia è rimandata a un altro, è una cosa che deve ancora arrivare. Ho capito bene? Certamente, ma è una frase ottimistica perché vuol dire che ci si arriverà, come dire, la spinta verso la democrazia. È già la democrazia in atto perché non è un concetto statico, è un concetto dinamico, è una ricerca continua. Talvolta mi accade di dire un prodotto chimico instabile, per cui le forze in campo si scontrano, si incontrano e da questo movimento perenne viene fuori una spinta profonda degli esseri umani ad essere uguali. Questo lo disse un grande sociologo, pensatore, chiamiamolo come vogliamo, Tocqueville, il quale diceva che la libertà è un desiderio che appare ogni tanto nelle aspirazioni umane, l'uguaglianza è sempre presente come aspirazione. Però lei scrive anche qui, proprio a proposito di libertà, ha vinto la libertà nel mondo ricco con tutte le terribili conseguenze che ciò comporta e comporterà per gli altri. La democrazia, è qui la frase che ricordava a memoria, la democrazia è rinviata ad altre epoche e sarà pensata da capo da altri uomini, forse non più europei. L'ha definita una frase ottimistica, per me è una frase agghiacciante, cioè vuole dire che noi oggi nel continente Europa dove la democrazia è stata inventata, la democrazia moderna, attenzione, è stata inventata. In realtà questo sogno dove libertà e giustizia riescono a stare insieme non si è mai avverato. Professor Canfora, lei pecca, no pecca di... Noi viviamo... Peccatore certamente, vediamo di quale particolare peccato, ma direi che possiamo cavarcela per brevità con l'aneddoto raccontato da Gaetano Mosca in un suo libro, una sua recensione tanti anni fa, 1912, un anziano sta per morire e dice ai figli nel giardino c'è un tesoro, cercatelo, loro si affannano, scavano, non lo trovano, il giardino è dissodato, quella è la democrazia, cioè il lavoro per qualche cosa, che è un, ripeto, un concetto dinamico al quale bisogna rassegnarsi. D'altronde il progresso non può negarsi che ci sia stato nonostante tutte le cadute. La democrazia antica era schiavistica, funzionava perché c'erano masse di schiavi. A parte le donne, tra l'altro, messe... Peggio ancora, gli stranieri residenti, esclusi, la cittadinanza un bene prezioso, a Roma erano un po' più larghi rispetto all'antica Grecia. Noi oggi certamente la schiavitù non l'abbiamo eliminata, è marginalizzata, è condannata, qualcuno la pratica nonostante tutto e per fortuna ci si accorge di questo. Però è diventato il fenomeno planetario perché le democrazie, sistemi aperti con elezioni pluripartitiche, eccetera, sono caratteristiche, sono state storicamente il XIX e XX secolo, di paesi che a loro volta avevano dei mondi su cui dominavano, quindi non più schiavistiche nel senso arcaico, ma con una dipendenza di altri mondi che aiutano a far funzionare e a star bene quelli che stanno in Europa. Sta ovviamente parlando del colonialismo, no? Che è uno dei lati bui dei meccanismi democratici europei delle varie grandi potenze, Gran Bretagna, Francia, Germania, Guglielmina, eccetera. E perfino l'Italia ebbe le sue piccole colonie, di qua e di là dall'altra. Si infilò, si infilò. Si infilò con un po' di ritardo. Dunque, noi abbiamo chiesto a Lucio Caracciolo, che è un serio analista di geopolitica, cerca di guardare nel mondo per capirne le linee direttive, e gli abbiamo chiesto perché la democrazia arretra e paiono avanzare le autocrazie. Caracciolo dirige tra l'altro in una rivista molto bella che si chiama Limes e lui ci ha risposto in questo modo. Molto difficile mappare la democrazia perché è una definizione piuttosto sfuggente. Il 77% dei cinesi pensa che il proprio sistema sia democratico e sappiamo che è un paese a regime autoritario e con un partito unico. Il 57% degli indiani pensa che l'India sia una democrazia. Un po' difficile immaginare una democrazia con le caste. Insomma, ognuno gli dà un po' l'interpretazione che vuole. Se vogliamo parlare di democrazia occidentale, beh, quella sì, è in declino. È in declino ormai da una ventina d'anni. Se immaginiamo un planisfero con disegnati paesi democratici di tipo occidentale e il resto siamo effettivamente una minoranza. Una minoranza di stati ma ancora di più una minoranza della popolazione. Anche perché noi occidentali siamo circa un miliardo e qualcosa su un totale di 8 miliardi e 200 milioni di umani. Un'altra considerazione riguarda quello che è il tipo di democrazia che si sta sviluppando nei nostri paesi, cioè la democrazia sempre più declinante dal punto di vista del consenso. Uno dei paradossi che viviamo oggi è che molto spesso regimi autoritari hanno un consenso superiore a quello dei regimi democratici. Pensiamo per esempio a quello che può essere la popolarità delle istituzioni americane, del congresso americano all'interno dell'opinione pubblica americana. Pensiamo anche a quello che può essere la popolarità del Parlamento italiano in Italia, cioè in una repubblica parlamentare, dove peraltro il Parlamento conta davvero sempre molto molto di meno. Quindi c'è un problema di definizione e c'è un problema anche di approvazione del nostro sistema. Ora noi abbiamo avuto nella democrazia più importante al mondo, cioè gli Stati Uniti d'America, un tentativo di colpo di Stato da parte di un presidente uscente che non accettava il verdetto e aveva mobilitato le masse violente che hanno fatto una sorta di incursione dentro al Parlamento per impedire la celebrazione della vittoria del suo avversario. Questa stessa persona, parlo di Donald Trump, sarà molto probabilmente il nuovo presidente degli Stati Uniti. Qualcosa non torna. Allora prima di parlare di arretramento o sviluppo della democrazia nel mondo, credo che sarebbe molto più opportuno concentrarci sull'arretramento della democrazia nel nostro mondo, cioè nei paesi che si definiscono democratici e che lo sono sempre meno. Un altro problema per cui la democrazia occidentale è in declino è che non è considerata più performante, cioè una democrazia è un sistema di potere in ultima analisi. Se la gran parte dell'opinione pubblica pensa che si possano ottenere risultati migliori con sistemi di tipo autoritario, beh insomma credo che ci dobbiamo cominciare a preoccupare. Ce ne stiamo preoccupando abbastanza, questo è un altro problema. È un'analisi lucida, io trovo, che mette l'accento sul fatto che la democrazia nei paesi, la democrazia di tipo occidentale, perché bisogna sempre definire come l'abbiamo conosciuto, dal settecento, dalla fine del settecento in poi, anche nei paesi dove si è affermata è in declino. Prima di esaminare, ci sono varie cause, tutte studiate, per le quali la democrazia è in declino, però prima di affrontare quel capitolo io volevo sapere la sua illuminata opinione, non sempre condivisibile, ma sempre illuminata, su un altro fenomeno, e cioè noi occidentali, inventori della democrazia, abbiamo stimato che fosse il miglior sistema possibile di governo degli uomini tale da poterlo esportare altrove nel mondo. Lei cita in questo bel libro, cita all'inizio di un capitolo il grande filosofo spagnolo di cultura induista, Panikar, il quale dice, parole profetiche, il monoculturalismo che ancora caratterizza il mondo occidentale, è la causa della mancanza di seri studi su altre forme di comprensione e di esercizio della politica, il che ci fa cadere spesso nel falso dilemma, democrazia o dittatura. Non so se lui è chiarissimo, se io sono riuscito a rendere la sua chiarezza. Aggiungo un'altra voce che viene da mondi diversi dal nostro, quella di Gabriel García Marquez, in un'intervista pubblicata sul País nell'ottobre del 1991, lui dice nel mondo occidentale c'è un fondamentalismo democratico, ciò che non rassomiglia al nostro sistema è male. Ed è vero, la parola fondamentalismo si adatta perfettamente. Andiamo indietro, il Amartya Sen in un bel saggio di tanti anni fa, faceva notare rispetto al mondo delle città greche, nell'India antica c'erano sistemi di decisioni collettive ben prima di Clistene Ateniese. Allora bisogna capire il mondo iuxta propria principia, questa è una citazione da un ottimo giornalista e studioso italiano che si chiamava Alberto Ronchei, il quale nel 99, nel settembre del 99, scrive un bell'articolo in prima pagina del Corriere sulla Cina e dice cerchiamo di capire la Cina iuxta propria principia, cioè secondo la sua storia, il suo accumulo coscienziale, culturale, religioso. E allora le nostre certezze un po' come dire dispotiche cominciano a crollare. Un antropologo americano, Bitti, tanti anni fa, nei primi anni 70, pubblicò un bel libro che uscì dalla terza in italiano, Uomini diversi da noi. Cerchiamo di capire che non siamo omologabili ad un unico modello, per questo non si può esportare. Ecco, la democrazia non si può esportare per questa ragione e anche io mi permetto di avanzare all'ipotesi, ma veda lei, che la democrazia ha una sua, la democrazia sempre bisogna precisare di tipo occidentale, ha una sua fioritura quando nasce da dentro, quando viene maturata per via endogena, non quando viene un esercito da fuori che dice da oggi siete democratici, abbattiamo le statue del dittatore e mettiamo la bandiera della libertà. Quella è una democrazia che è fragile, che dura poco, giusto? Diceva Massimiliano Robespierre, che possiamo citare, come dire, onoris causa in questo contesto, nell'aprile del 1792, quando la Francia si accinge a dichiarare guerra alla coalizione antifrancese, i popoli non amano i missionari armati, che è una formula perfetta. Lui era contro la guerra che esportava il modello francese in Renania o in Italia o altrove, come poi accadde col Bonaparte. Questo è un cardine, capire che non si esporta perché i popoli non amano i missionari armati. Ma veda, professore, senza conoscere nell'infinita ignoranza questa frase di Robespierre, con la collega Carla Mellidi, quando abbiamo preparato questo copione, abbiamo messo che l'esportazione della democrazia con le armi ricorda un po' l'esportazione della religione senza armi o qualche volta anche con le armi, penso ai conquistadores spagnoli in America Latina, ed è una imposizione che una parte del mondo fa su un'altra parte del mondo. Per fondamentalismo, per la convinzione di essere un modello inarrivabile, anzi da esportare, perché gli altri sono deteriori. Questo è il problema. Aggiungerei però una chiosa a margine, ho ammirato e condiviso questa formula occidentale, occidentale va bene, però ci sono differenze profonde anche all'interno del cosiddetto modello occidentale, tra la Francia e la sua tradizione repubblicana che affonda le radici appunto nell'epoca alla quale abbiamo fatto riferimento, e gli Stati Uniti d'America o la Gran Bretagna o la stessa Italia o la Spagna. Ci sono molte differenze, quindi non è neanche qui un modello unico, questo non va mai perso di vista. Se negli Stati Uniti è accaduto da ultimo quello che abbiamo appena visto, questo discende anche dalla inesistenza per esempio di partiti, di veri partiti politici che nascono ogni quattro anni come comitati elettorali, poi si rinfoderano da qualche altra parte. La ricchezza negli Stati Uniti è un elemento fondamentale per partecipare alla lotta politica, ci vogliono un sacco di quattrini per farsi eleggere senatori. Questo è qualcosa che per fortuna non vediamo ancora fermarsi dalle nostre parti e se mai questo accadesse porterebbe discredito alla democrazia, la coniugazione con la ricchezza, vecchio Aristotele. Sempre lì batte la lingua. Beh ma partono da lì molte idee e parole che noi usiamo. Sì, certo. Allora, vediamo perché in questa ulteriore parte di questa conversazione vorrei che lei esaminasse, lanciando io delle esche, vorrei che lei esaminasse le varie ragioni per le quali nei paesi appena citati e cioè le vecchie Europa o gli Stati Uniti, tra l'altro ricordo che Francia e Stati Uniti d'America sono tra i fondatori dell'idea moderna della democrazia perché in questi stessi paesi la democrazia sembra barcollare. Sempre con la collega abbiamo creduto di individuare varie ragioni. Gli ne dico una, la rivoluzione telematica, l'intelligenza artificiale con tutte le possibilità di falsificazione che comporta. Le faccio vedere una foto creata dall'intelligenza artificiale che intende smentire le accuse di razzismo a Trump. Questa foto è falsa e si vede Trump sorridente e felice in mezzo a un gruppo di afroamericani. Se ci sono vari dettagli che adesso ometto che ne dimostrano la falsità a mani sbagliate, al posto sbagliato eccetera. Comunque c'è interferenze telematiche per esempio della Russia sui processi della democrazia americana eccetera. Cioè c'è un mondo in profonda trasformazione, una delle conseguenze è che va a ferire, a intaccare la democrazia. È d'accordo? Sì, alcuni di questi fattori sono recentissimi, l'intelligenza artificiale non è un... È in fieri. In fieri, se ne parla giustamente sempre più spesso, ma la crisi nei nostri sistemi politici nasce molto prima. Non è un caso che alla fine dell'Ottocento, del secolo XIX, la critica di tipo elitistico al sistema democratico sia così forte. Michels, Pareto... Siamo in televisione e cerchiamo di... Come dire, la teoria politologica che sostiene, con qualche argomento forte, che comunque le elite dominano e riescono a guidare i sistemi anche quando sono democratici, è una teoria che ha un peso anche sociologicamente dimostrabile come vera. Bonaparte, Napoleone il primo imperatore, non il terzo. Quell'altro. Che però aveva le sue idee, non lasciamo... Scrive le guerre di Giulio Cesare, le detta quando sta a Sant'Elena. A un certo punto dice mi hanno rimproverato per avere riproposto un'aristocrazia, no? La nobiltà dell'impero. Dice, ma anche Cesare l'ha fatto, ma l'aristocrazia rinasce anche dentro gli atelier operai. C'è il meccanismo di un'elite che guida gli altri anche nel nucleo più democratico possibile, cioè nella fabbrica. Va bene. Quindi la teoria elitista, quella che dice le elite contano sempre quale che sia il sistema intorno funzionante, è una teoria che ha molte frecce nell'arco e alla fine del secolo XIX, dell'Ottocento, è talmente forte questa critica che i sistemi elettivi cadono in discredito. Anche il fascismo ne ha approfittato. Ha avuto molto ascolto perché criticava i difetti degenerativi dei sistemi elettivi di tipo liberale con forti venature democratiche. Questo accadeva molto prima dell'intelligenza artificiale. Oggi è tutto più forte. L'ipotesi che abbiamo lanciato sul tavolo di questa discussione è che i fenomeni oggi prepotenti, quali il passaggio di cultura, la globalizzazione, l'intelligenza artificiale abbiano accelerato, potenziato e tutto questo va a danno della democrazia. Certamente. Credo, da profano si capisce, di poter dire che quanto più forte è la tecnologia, quanto più si parcellizza la partecipazione umana, per cui da solo con uno strumento io conosco il mondo, comunico col mondo, ma non frequento più fisicamente i miei simili, tanto più la democrazia soffre. I partiti politici cessano di avere un ruolo vero, educativo, per cui una frase che ogni tanto mi torna alla mente, pronunciata da Togliatti alla Costituente, i partiti sono la democrazia che si organizza, frase secondo me molto vera, oggi comincia a perdere presa sulla realtà, perché i partiti stessi stentano ad essere tali e a svolgere quella loro funzione. Altra possibile causa, mi pare che su questa siamo, a parte le sue sottili e dotte distinzioni, siamo d'accordo. I superpoteri, anche finanziari delle grandi corporazioni che hanno capacità economiche, che superano quelle degli stati, le faccio vedere, le società più ricche del mondo, questo è il famoso E5, se andiamo al cartello successivo e vediamo il prodotto interno lordo di alcuni paesi. Vediamo che, per esempio, il prodotto nostro, che è quello che ci interessa di più, l'Italia, 2.186 miliardi, è inferiore a quello della Apple, di Saudi Aramco e di Microsoft. Il loro bilancio è superiore al prodotto interno lordo italiano. Che deriva da questo? Deriva che le decisioni dei parlamenti inevitabilmente scadono. È d'accordo? D'accordissimo, è la potenza della ricchezza che insidia la potenza del popolo. Democratia vuol dire la forza, il potere popolare. Lì abbiamo il potere della ricchezza, che è agli antipodi. Quindi il gran problema è quello. È sempre quello. Direi che un pensatore italiano molto discusso, anche per le sue varie posizioni, durante e dopo il fascismo, si chiamava Ugo Spirito, un uomo notevole, scrive nel 1963, ormai tanto tempo dopo, un libro, La crisi critica della democrazia. E lui dice, ci sono tante forme di democrazia, quanti sono i gruppi dirigenti dei singoli sistemi. Quindi c'è la democrazia capitalistica, la democrazia clericale, quando i gesuiti comandano nel Paraguay. Renzo De Felice scrive in una prefazione a Georg Mosse, gli scappa dalla penna, che il fascismo fu una democrazia di massa. Uno ha un punto, così, un certo... Sobbalza, uno sobbalza. Un fremito, perché? Ma perché intende che il consenso è democrazia ipso facto, va bene? Cioè intuisce una cosa, che le masse non sono concordi con chi comanda dall'alto. Attenzione, questo è un pensiero sottile, non sbagliato. Che il consenso delle masse sia un elemento democratico, non si può negare. Tanto è vero che oggi la democrazia potrebbe essere messa in pericolo proprio da un consenso delle masse forviato da false informazioni, disinformato, impaurito, tutto quello che vuole. Da un consenso delle masse che decidono di abolire, mettere da parte la democrazia. E' del tutto possibile, infatti le costituzioni si garantiscono con la clausola di garanzia, no? Non si mette in discussione il sistema politico vigente. E' un po' strano, no? Perché a rigore contrasta con l'idea della libertà di pensiero. Della libertà, certo. Però è uno strumento indispensabile. Quanto poi alla, come dire, purezza della decisione popolare, credo che nessuno ormai pensi questo, non si vota allo Stato puro. Non esiste la volontà politica del singolo cittadino allo Stato puro. Perché egli è condizionato da un'infinità di fattori culturali, mediatici, personali, religiosi, economici, eccetera. Gramsci scrive in una pagina dei quaderni che se le classi dominanti perdono le elezioni vuol dire che si sono distratte. E' bellissima. Le faccio vedere due fotografie dell'aula del nostro Parlamento. Era la seduta della commissione di inchiesta su Giulio Reggeni. Guardi qua. Un rappresentante del governo, sperduto lì. La presidenza d'aula, lo stenografo. E l'altra immagine, anche questa, è il Senato della Repubblica. Violenza sulle donne, novembre 2023, dopo il caso di Giulia Cecchettini. Cioè, che cosa dimostra questo vuoto, quattro senatori sperduti, che cosa dimostra questo vuoto? Dimostra che i senatori sono pigri, hanno da fare, ma hanno anche la consapevolezza che la loro funzione ormai è scheletrita, serve a poco. Esatto, è la crisi della rappresentanza. È la crisi della rappresentanza. Che è un problema che ci portiamo dietro da tantissimo tempo, nell'età nostra moderna. Per dire, un padre del meccanismo, o perlomeno dell'idea democratica, come Jean-Jacques Rousseau, in una sua prosa, della quale poi si pente, dice il popolo inglese, il giorno dopo aver votato, ridiventa schiavo. Che è una frase paradossale, naturalmente. Che vuol dire? Vuol dire la delega, vuol dire cessione di potere. Chi riceve questa delega esercita il potere. Oggi questi che hanno ricevuto la delega si accorgono che non ce l'hanno più tra le mani. E ancora una volta si deve domandare dove sta il potere. Sì, a un parte l'abbiamo visto, il potere sta nelle grandi potenze finanziarie. In parte il potere dai parlamenti nazionali è stato delegato a delle entità sovranazionali, per esempio l'Unione Europea, nella quale il Parlamento ha poteri limitati, ma un po' di piccoli poteri ce l'ha, e supplisce a quello dei parlamenti nazionali. Per esempio noi, Italia, sappiamo bene che col patto di stabilità dobbiamo condurre la nostra linea di politica economica entro certi parametri, perché se no siamo soggetti a sanzioni. Quindi, veda Canforo, la complicazione della nostra conversazione è anche questa, che noi ci troviamo continuamente ad affrontare gli ostacoli o le strade laterali di un periodo di passaggio, quale è quello che stiamo vivendo. E' questo che a me personalmente inquieta, perché ci impedisce di cogliere il nocciolo della questione, afferrare la coda del topo. Vorrei però essere consolatorio in questo caso, come spesso mi accade. Le epoche sono tutte di transizione, non c'è ancora nella storia venuta fuori un'epoca immobile, anche se nell'età Antonina, nel secondo dopo Cristo, si pensava che fosse il regno della felicità umana, anche Gibbon lo scrive. No, tutte le epoche sono di transizione. Quei cinque imperatori dell'età Antonina sono quanto di meglio abbia prodotto l'impero romano, siamo d'accordo? Vediamo l'antisemitismo di Adriano, il persecutore degli ebrei, mi farà brividire quando si parla di lui in termini alla Yurzenar. Però poi dopo viene Marco Aurelio e questo è la cosa. Il filosofo al potere, il sogno di Platone, no? Questo è un po' la consola. Dopodiché dà il potere al figlio, che è un disastro, no? No, quindi è meglio non addentrarsi da quelle parti. Credo che la questione posta prima sia quella giusta, e cioè si stanno formando altri tipi di esercizio del potere. Quello che abbiamo visto ora, Parlamento europeo che non conta moltissimo, sono organismi direttivi che invece hanno peso, ai quali bisogna riferirsi nella politica economica e soprattutto in quella. Che cosa significa questo? Significa che si delinea un trapasso da un sistema di tipo parlamentare a un sistema, diciamo, egemonico, che attraverso forme indirette di elezione, la Commissione europea è indirettamente partorita e quindi non rassomiglia a un governo di un sistema parlamentare, ha un potere di gran lunga superiore a quello del Parlamento. Io lancerei un allarme perché questo potrebbe essere il nostro futuro, forse, però ha dei rischi notevoli per la completa estinzione dell'esercizio diretto del kratos del demo, della forza del demo. Dopodiché è una soluzione alla quale guardano con simpatia i teorici dell'elitismo, perché la Commissione europea è selezionata umanamente, persone competenti, persone valide, che sanno il fatto loro, che hanno conoscenze specifiche. Non dico i filosofi al potere come Platone, però i tecnici capaci che guidano gli altri che capaci non sono o non sono del tutto tali. Ci sarebbe un altro, anzi c'è un altro argomento terribile che mina le democrazie ed è la paura. Ne parliamo tra un attimo. Professor Canfora, prima di questa breve pausa dicevamo che una delle cause per cui le democrazie in questo nostro mondo barcollano sono le paure, i grandi cambiamenti che sono in corso, per esempio le migrazioni di massa con le loro tragedie, come dimostra questa foto qui sul muro, o preludio tra l'altro di grandi migrazioni, ancora più grandi, ancora maggiori, dovute ai cambiamenti climatici. Ne parleremo tra un po' con un altro, col professor Mancuso, che succederà a lei su quella poltrona. Allora le grandi paure suscitano uno spirito di protezione, un desiderio di protezione e la protezione è autoritaria. Le grandi paure sono un fatto ricorrente nella storia, le migrazioni di popoli le rappresentano al meglio, sono la paura più grande in sostanza, altri che vengono e prendono ciò che poi sembra a noi essere soltanto nostro. È un fenomeno planetario, noi siamo nel Mediterraneo dove ci sono tragedie continue, nell'estremo oriente, tra il Messico e gli Stati Uniti, è un fenomeno mondiale, che ha a che fare con un problema cosmico, cioè la ricchezza spartita male. Quelli che vengono qua vogliono attingere a un po' del benessere che noi abbiamo. La paura scatta a quel punto e produce rifiuto. Tanto più è importante che grandi idee riescano ancora una volta a farsi ascoltare, che sono non soltanto filosofiche, ma anche religiose, ma anche puramente etiche, grandi ideali che si stanno appannando. Ecco, questa è l'altra causa sulla quale volevo interrogarla, che lei ha anticipato, cioè l'esercizio della politica o l'adesione alla politica. Fino a pochi, non tanti decenni fa, era suscitato da un'adesione ideale, la partecipazione a una grande corrente di pensiero. Oggi sembra non essere più così. Si, è discredito, c'è discredito contro la parola ideologia, no? C'è un palese discredito che è come un veleno che ha indotto moltissimi, anche nelle generazioni nuove, a considerare tutto ciò che è ideale, un principio, come qualche cosa di falso. Molte ideologie, cioè grandi pensieri, sono state, per così dire, battute, sconfitte dalla dura lezione della storia. Ma questo non è successo soltanto nel ventesimo secolo, no? Che è stato il secolo del socialismo e della sconfitta del socialismo. Ma anche il cristianesimo ha avuto una grandezza e poi un declino perché si è snaturato e sostesso. Ma considerare questo non significa che le ideologie vanno buttate a mare per sempre, che debbono rinnovarsi, ne nascono di nuove, che recepiscono l'insegnamento precedente. La parola insegnamento a me pare cruciale in questa tematica. Eh sì, che nel senso in cui l'ha detto è anche nel senso corrente, più banale, quotidiano, dell'insegnamento scolastico. Questo mi porta alla mente un grande pensatore statunitense, John Dewey, un teorico della democrazia americana, geniale, il quale dice la democrazia c'è se funziona l'educazione di massa. Se viene meno l'educazione, le scuole deperiscono, automaticamente la democrazia deperisce. Ancora una volta un prodotto instabile. Assolutamente condivisibile. Di fatti, devo dire la verità, non conoscevo Dewey, ma questo concetto viene anche ribadito proprio sulla stampa quotidiana. Quindi speriamo bene. Io invece penso male, spero bene, ma vedo male, perché come dimostra questa tabella, che le faccio vedere, la quale ci dice preferenze tra regime militare e leader forte per classi di età. Come lei vede, nella classe più giovane, 18-35, il marrone del regime militare è amplissimo. Poi dopo, con l'avanzare dell'età, sul regime militare, prevale il leader forte. Insomma, in tutti e due i casi, la democrazia viene messa da parte, perché il regime militare e il leader forte sembrano interessare molto di più i giovani di quanto non sia l'esercizio pacifico, tranquillo, pigro, ripetitivo, noioso della democrazia. No, io non mi stupisco perché la classe di età presa in considerazione è piuttosto ampia, ma certamente rinvia a persone che hanno poca esperienza già vissuta della realtà e una mentalità tipicamente semplificatrice. Ora, è evidente che il monarca, qualunque sia l'epiteto col quale lo connotiamo, è più facile da gestire ed è più portatore di certezze che non il conflitto che è inerente alla democrazia. Quindi è l'inesperienza che induce, in assenza anche di una formazione scolastica, quella simpatia. L'inesperienza è... È la scarsa formazione scolastica che nasce da tanti fattori che adesso forse non si possono neanche elencare. Colpisce il fatto che l'età avanzata porta a capire che l'uomo forte non serve a nulla. Chiudo questa bella conversazione rivolgendone un'ultima domanda trattino provocazione. Tutto quello, molto di quello che lei ha detto, che abbiamo detto, porta a pensare che la democrazia possa essere accantonata democraticamente, cioè per volontà popolare. È un paradosso, no? Non è un paradosso. Intanto è accaduto, purtroppo, nel Novecento, lo sappiamo. Si evoca sempre le elezioni tedesche dell'aprile del 1933, che però si svolgono un clima di violenza tale, per cui sono in malafede quelli che dicono che andò al potere con le elezioni, andò al potere con l'incendio del Reichstag, l'arresto degli oppositori e la violenza per le strade. Quindi diamoci calmi. Ciò non toglie che un consenso forte nelle classi più sofferenti, disoccupati di Weimar, eccetera, andò dalla parte sua. Quindi questo accantonamento è sempre dietro l'angolo. Ma tocca a noi vigilare. Attraverso che cosa? L'istruzione? Beh, intanto l'istruzione è una parola vastissima. Io direi anche ridar vita ai partiti politici. addirittura. Mi sembra una ricetta elementare, eh? Cioè come palestra di democrazia. E come grande educatore collettivo. Ecco, una cosa della quale non si parla mai. Lei ha lanciato... E se vuole ha ragione, è una cosa ovvia, però non se ne parla mai. Perché quelli che abbiamo oggi sono ombre. Sono finti partiti. Finti, parodi. Diventeranno tali, ma si stanno, come dire, costituendo faticosamente pieni di correnti contraddittorie, privi di una unità spirituale, che sarebbe molto importante. Tanto è vero che la gente non va più a votare. Tanto per... Esatto. Grazie, professor Canfora. Io sono... Esco, non dico, insomma un po' scosso da questa conversazione, perché lei... Insomma, la situazione non è bella, diciamo la verità. E adesso temo di dover dire col professor Mancuso che viene qua mentre va in onda questo filmato, avremo delle notizie non molto confortanti parlando del clima. Grazie. Per quanto ci riguarda, alla prossima e noi vediamo intanto questo breve filmato sul clima. This is not a time for pessimism. This is a time for optimism. We must reject the perennial prophets of doom and their predictions of the apocalypse. Incendi, ahimè, temperatura a 45 gradi, situazioni tragiche che si sono ripetute nel corso della storia. Quindi immaginare che siamo arrivati alla fine della storia è sbagliato. Ci stanno chiedendo di fare una costosissima rivoluzione industriale verde, intere filiere industriali che rischiano di saltare. Da quando hanno lanciato l'allarme del riscaldamento globale fa un freeze dell'ostia, il piove sempre, fa freddo, c'è la nebbia. Professor Mancuso, buonasera. Ora, Stefano Mancuso, la prima volta che lo ebbe ospite anni fa, mi stupì fino a farmi sobbalzare dicendo che sarebbe stato necessario piantare milioni di alberi e invece poi ho scoperto da ignorante profondo che aveva ragione perché lì milioni di alberi sono una cura al disastro che abbiamo combinato a questo pianeta e il professor Mancuso ce lo racconta con alcuni esempi virtuosi, tra l'altro affascinanti e curiosi in questo libro pubblicato dalla terza che si chiama Fitopolis, Fitopolis, cioè Fitopolis, la città delle piante, delle piante, la città vivente. O metto i suoi titoli accademici, perché andiamo, abbiamo qua quattro righe di titoli accademici, ma li salto, li salto. qui lei cita alcuni esempi virtuosi che dicono la verità, un filo di speranza la aprono. Sì, per esempio ci sono alcune città, quando noi parliamo lei ha citato questi numeri sugli alberi, ora poi magari diremo anche perché è necessario metterli. Normalmente le città, le nostre amministrazioni parlano di qualche migliaio, qualche centinaio di alberi, avendo grandi problemi a trovare i luoghi dove metterli. In realtà ne dovremmo mettere appunto, come lei diceva, milioni in ogni città. E un esempio virtuoso ad esempio è Seul. Seul ha messo 16 milioni di alberi. 16 milioni di alberi hanno, incidono in maniera significativa sulla qualità dell'aria, sull'assorbimento di anidride carbonica e soprattutto sulla temperatura delle città, perché lei la sentivola anche nella prima parte della trasmissione parlare del problema delle migrazioni, beh, le migrazioni sono una diretta conseguenza del riscaldamento globale. E anche delle differenze economiche. Ovviamente. Sì, come sottolineava, veda, lei e Canfora avete due approcci diversi allo stesso fenomeno. Canfora che ha la formazione che ha diceva la ricchezza, le diversità economiche. Lei di diversa formazione dice. Vediamo un piccolo filmato però su quello che commenta ad hoc quello che lei ha detto. They want open borders la proposta più seria l'abbiamo sempre fatta noi. La proposta più seria si chiama blocco navale. Ogni mezzo necessario per bloccare l'invasione dovrà essere studiato e se serve utilizzato. Ora, caro professore, io un momento fuori dalla sua specialità per commentare brevemente queste dichiarazioni politiche che investono come abbiamo visto gli Stati Uniti, l'Ungheria, la Turchia, l'Italia, eccetera. Questi poveri politici combattono a parole per accaparrarsi un po' di favore elettorale un fenomeno che è inarrestabile. È così? È inarrestabile e indiscutibile. È una... In questa fase della nostra storia io vedo anche un problema particolare che non mi sembra sia mai accaduto, avvenuto prima. C'è uno sfasamento straordinario fra ciò che la scienza dice e ciò che invece le amministrazioni a qualunque livello percepiscono e anche la cittadinanza direi in generale perché per la scienza questo è di gran lunga uno dei più gravi problemi che l'umanità abbia mai avuto nel corso della sua storia sono indubitabili. Queste immagini che vedevamo riguardo ai migranti e alle posizioni dei vari governi sui migranti sono delle immagini che dovrebbero scuotere ciascuno di noi perché vede c'è un ci sono un'enorme quantità di studi ormai che ci dicono che nei prossimi pochi decenni la quantità di terra che diventerà inabitabile per estremi termici del pianeta sarà elevata c'è chi dice si va da un 10 al 18 per cento una quantità di terra su cui oggi vivono da qualche centinaio di milioni a qualche miliardo di persone in tutti e due i casi cioè lei sta dicendo che diventerà troppo calda certo e arida e arida ci saranno limiti proprio di abitabilità il sub-sahara la parte sub-sahariana dell'Africa che già oggi è praticamente già quasi inabitabile lo diventerà totalmente cioè sarà impossibile per la vita umana continuare a esistere in quei luoghi allora stiamo parlando e non è l'unico luogo del pianeta stiamo parlando di luoghi in cui vivono centinaia di milioni di persone dove andranno queste persone non si potrà bloccare sicuramente il loro movimento certo di fatti c'era quell'immagine di rangers a cavallo che scacciavano i messicani diciamo i latinoamericani al di là di un fiume e c'erano le immagini terribili del Mediterraneo per il quale si dice blocco navale ma blocco navale ma per favore vede la cosa che poi a prescindere diciamo dallo scuotere le coscienze di ciascuno di noi tutto quello che accade tutti i morti che stiamo vedendo c'è anche una questione come dire prettamente biologica in un certo senso sa qual è il meccanismo attraverso il quale la natura garantisce alle specie viventi la possibilità di rispondere ai cambiamenti ambientali le migrazioni tutte le specie migrano ma la nostra specie stessa ha migrato tantissimo noi siamo nati in Africa poi ci siamo spostati su tutto il pianeta le specie si spostano cambiano gli areali qui a Roma abbiamo ora i pappagallini i gabbiani i gabbiani nel mar Mediterraneo ci sono una incredibile quantità di specie di pesci che erano che sono specie tropicali le piante si stanno diffondendo vanno sempre più in alto e aumentano la latitudine tutte le specie del pianeta si adattano ai cambiamenti attraverso le migrazioni tranne la nostra alla nostra questo è vietato beh la nostra questo è vietato perché abbiamo siamo animali senzienti con una coscienza abbiamo delle radici che non sono soltanto ambientali ma anche affettive religiose culturali eccetera eccetera quindi questo si spiega no ma vedi quello che lei diceva è illustrato benissimo da questo libro per esempio mi ha incuriosito apprendere che a Londra ci sono delle zanzare che si sono ambientate nelle linee della metropolitana si non si sono soltanto ambientali si sono proprio evolute cioè è diventata una nuova specie c'è una specie che vive in alcune ci sono diverse specie che vivono nelle diverse linee della metropolitana di Londra che hanno caratteristiche e comportamenti diversi rispetto alle alle zanzare di superficie ad esempio le zanzare di superficie pungono gli uomini ma anche gli animali le zanzare della metropolitana di Londra pungono soltanto gli uomini si adattano la vita si adatta ai cambiamenti in maniera anche molto veloce fin qui siamo tutti d'accordo quelli che lo sanno ma il bello o il brutto comincia quando dalla parte diciamo negativa passiamo a quella positiva perché lei dice già fin dal titolo del libro Fitopolis la città delle piante che bisognerebbe cambiare la concezione secolare con le quali gli agglomerati urbani o città sono state concepite e costruite come si dice a Roma mai detto un prospero si lo capisco perfettamente in effetti qui stiamo parlando proprio di un cambiamento culturale noi abbiamo sempre immaginato le nostre città come dei luoghi architettonici separati dalla natura pensi per esempio a quelle magnifiche rappresentazioni rinascimentali delle città ideali non c'è non c'è un filo d'erba esatto sono proprio un'opera architettonica quindi c'è del lavoro da fare però ne abbiamo necessità dobbiamo realmente cambiare l'idea delle nostre città guardiamo questa immagine che ci propina la nostra Sabrina questa è un tentativo di ricostruire questi si chiamano in Inghilterra backyard giardinetto posteriore campetto posteriore ecco questi cercano con qualche foglia di insalata diciamo è un primo tentativo guardi c'è un dato fondamentale le nostre città rispetto al 1960 quindi non stiamo parlando più di epoca preindustriale stiamo parlando di 60 anni fa sono più calde dai 3 dai 3 gradi ai 3 gradi 8 in media è una quantità di temperatura spaventosa veramente una quantità cioè inaudita il che fa sì che durante l'estate le ondate di calore sono sempre più lunghe e con temperature sempre più elevate a luglio del 2022 in Europa nelle città sono morte 450 mila persone per il caldo 65 mila in Italia che è la nazione che è col maggior numero di decessi da questo punto di vista questi sono dati pubblicati su Nature quindi li possiamo prendere per indiscutibili come si farà nei prossimi anni con le temperature bisogna raffreddare le città e le città si raffreddano sembra una cosa naif o un pochettino fricchettona ma è soltanto in questa maniera con gli alberi non c'è ad oggi un sistema più efficiente per raffreddare una città perché gli alberi funzionano come dei grandi condizionatori cioè lo stesso principio del condizionatore d'aria l'evaporazione dell'acqua che traspira attraverso la pianta è un processo endodermico cioè assorbe calore e abbassa la temperatura al contrario di quanto fa il condizionatore di casa perché nelle cifre che lei ha detto chi muore sono gli anziani più fragili certo che dispongono di meno mezzi meno abbienti però il condizionatore di casa io l'ho scoperto colpevolmente solo qualche anno fa mentre tu stai nella stanza refrigerata il motore fuori butta caldo butta caldo e aumenta quando migliaia di condizionatori sono in funzione a parte il consumo energetico è uno dei motivi per cui ci sono uno dei tanti concomitanti motivi per cui ci sono queste ondate di calore e allora davvero facendo i calcoli guardando quello che immaginando più che altro modellando quello che accadrà nei prossimi anni si vede che abbiamo davvero necessità di cambiare in maniera strutturale le nostre città allora dove li mettiamo questi alberi questo è il punto dove li mettiamo non nel backyard non c'entrano non c'entrano nei parchi non c'entrano dobbiamo vedere come la città è fatta una città europea media ha intorno al 30% della superficie fatta da strade una città americana arriva anche al 45% questo 30% di strade che oggi sono il luogo delle macchine non è non sono sempre state questa cosa qui è una questione dell'ultimo secolo anche negli Stati Uniti la famosa Fifth Avenue a New York se uno guarda una foto della fine dell'Ottocento trova una città che è un fiume di persone con le bancarelle dove si lavora dove si gioca eccetera oggi le strade sono diventate il luogo delle macchine allora cosa dobbiamo fare o in movimento o ferme esatto no dobbiamo il movimento deve diventare qualche cosa di diverso deve essere qualche cosa lo so di nuovo come direbbero a Roma aspettala una cosa del genere un trasporto pubblico davvero efficiente però le città avanzate devono fare questo devono avere un trasporto pubblico efficiente e liberare le strade cioè le strade devono rientrare nel dominio delle persone va tolto l'asfalto e vanno messi gli alberi e io lo so che oggi sembra una cosa un'utopia però lei ricorda piazza del popolo coperta di macchine come un grande parcheggio a cielo aperto l'amministrazione Rutelli a chiuderla piazza plebiscito a Napoli fu Bassolino quindi stiamo parlando veramente di fenomeni abbastanza recenti fino a 30 40 anni fa le grandi importanti piazze italiane erano degli enormi parcheggi a cielo aperto oggi se noi guardiamo quelle immagini francamente proviamo una specie di senso di come se guardassimo un passato barbarico barbarico e umiliante e umiliante io penso che fra qualche ho l'ottimismo diciamo di pensare che fra qualche anno quando guarderemo le nostre città e le vedremo coperte di macchine lei ha usato la parola chiave ottimismo lei è un utopista e come tutti gli utopisti deve essere dotato di un ottimismo infrangibile perché veda la giusta mi viene da dire sacrosanta battaglia per la quale lei che lei combatte urta contro una pigrizia abitudine staticità indifferenza delle amministrazioni e fortissimi interessi contrari beh sia è vero è una barriera è una barriera che a prima vista sembra impenetrabile però ci sono alcune storie veramente da questo punto di vista paradigmatiche ecco chiamiamole così la pensi la città le racconto questa storia sulla città di Curitiba in Brasile questa città era siamo durante in Brasile c'era una una delle varie dittature che hanno funestato quel paese per tanti anni questa città di Curitiba deve prendere un nuovo sindaco viene scelto un ragazzino l'ho letto nel 71 nel 71 prendono un ragazzino appena laureato dalla facoltà di architettura Jaime Lerner una persona ebreo che diventerà fondamentale per la storia proprio dell'architettura moderna cosa fa Jaime Lerner guarda questa città si accorge che un agglomerato invivibile di macchine Curitiba è una città di qualche milione di abitanti non è una cittadina e fa una cosa che poi diventerà epocale letteralmente disegna un cerchio e dice qui le macchine non passano sa benissimo a presente diciamo c'è da una parte quella utopia ottimistica di questo giovane ragazzo dall'altra sa benissimo che gli interessi contro cui va sono fortissimi aspetta un venerdì sera perché i tribunali sono chiusi ha messo in piedi una serie di squadre di operai arrivano tolgono l'asfalto dalle strade ci mettono delle fioriere degli alberi in modo che non ci si possa passare lui già sapeva che avrebbe dovuto resistere sei mesi dopo sei mesi le persone avrebbero capito il miglioramento della loro vita e quindi per sei mesi è una battaglia continua fra questi che richiudono riaprono le strade lui che rimette le piante dopo sei mesi tutti accettano anche i commercianti vedono il miglioramento dei loro affari il primo affare una zona traffico una di quelle aree pedonali che oggi sono parte diciamo dell'esperienza comune io mi ricordo in piccolo la stessa cosa in piccolissimo accade a Roma quando si pedonalizzarono alcune strade i commercianti protestarono vivamente temendo un danno ai loro affari e invece no poi dopo non hanno più perché anzi al contrario la gente va a passeggiare e magari compra ma certo tutte le statistiche dimostrano che la rimozione del traffico e la possibilità di poter camminare aumenta ad esempio la capacità di commercio un'altra cosa che mi ha incuriosito molto sono i topi di New York come è quella storia lì beh questa i topi sono diciamo fra quegli esseri che hanno accompagnato sempre la nostra storia sono i nostri commensali dove andiamo a noi ci sono i topi sulla terra o sul mare dappertutto nelle navi dove ci siamo a noi ci sono i topi viviamo come dire quasi due vite parallele a livelli diversi quello che è successo a New York che i famosi topi di New York sono una quantità enorme hanno subito delle mutazioni cioè si stanno evolvendo a seconda dei quartieri un po' quello che accade alle zanzare di Londra è accaduto ai topi di New York ogni quartiere ha la sua particolare subspecie perché la città si comporta un po' come delle isole la città proprio perché non è connessa con il resto immagini che ne so Central Park a New York lo conoscono tutti almeno hanno visto le foto è questo rettangolone in mezzo a degli edifici quel rettangolone questo rettangolone di natura è un'isola che come tale ha quell'evoluzione tipica delle isole che fa sì che le specie si evolvano senza potersi muovere rimanendo soltanto lì dentro professor Mancuso grazie io prima di andare lì a leggere una cosa che richiama lei richiama soprattutto l'idea di democrazia tra l'altro secondo lei il cambiamento climatico è un fattore antidemocratico cioè che che contrasta la democrazia che nuoce la democrazia sicuramente sicuramente ecco allora ricordo il libro Fitopolis che ho dovuto postillare perché la lettura mi ha molto appassionato vado un momento lì a leggere delle parole molto belle che riguardano per l'appunto il mi compongo riguardano appunto la democrazia il suo funzionamento sono parole di Thomas Jefferson pronunciate quando ci fu la dichiarazione di dipendenza negli Stati Uniti la cui dato ufficiale come tutti sanno è il 4 luglio dell'anno 1776 Jefferson disse noi sosteniamo che le seguenti verità sono di per sé evidenti tutti gli uomini sono creati uguali sono dotati dal creatore di certi diritti inalienabili tra i quali sono la vita la libertà e la ricerca della felicità era la prima volta che la parola happiness felicità compariva in un documento politico che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini i governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati che ogni qual volta una forma di governo diventi perniciosa a questi fini è nel diritto del popolo di modificarla o di abolirla sono parole illuminate dallo spirito di quella fine del Settecento che tanti mutamenti positivi ha visto non sempre anzi posso dire quasi mai applicate però sono lì e ci ricordano che cosa è la democrazia a partire da quella affermazione di inizio tutti gli uomini sono creati uguali buonasera a partire Grazie a tutti. Grazie a tutti.